Ho il grande piacere stasera di reintervistare Antonio Falanga che fa parte dei maggiori uffici stampa, delle maggiori maison di moda italiane che anche appunto adesso ci spiegherà lui meglio perché è molto più bravo di me naturalmente a dire quello che fa. Ciao Antonio, benvenuto su HTO. Benvenuti a voi, questa bellissima iniziativa di Giannetti De Nardis, questo primo festival web della moda, quindi un appuntamento molto importante. Allora tu naturalmente di moda sei ormai un grande intenditore, lavori sulla moda e oltre a quello lo si vede anche per come vesti, quindi oggi fashion film che cosa vuol dire? Stasera premiamo appunto questa serie di film sulla moda del web e poi ci sarà un momento dedicato anche alla situazione più importante, le fashion blogger, quindi un momento molto particolare in cui loro avranno molta visibilità e quindi molta promozione. Questo naturalmente ci fa piacere perché appunto oggi le fashion blogger sono molto apprezzate. È il loro momento, la loro attività principale adesso è in pieno fermento. Allora, tu abbiamo detto prima che appunto fai parte di questa giuria, quali saranno i criteri con quali giudicherai? Sicuramente con l'occhio appunto del taglio moda, quindi molto importante e poi le motività che ci daranno questi film. Che cosa ti aspetti? Belle cose perché i ragazzi sono molto in gamba. E allora naturalmente adesso magari poi ci dirai come quello che ti è piaciuto di più. A dopo, buona serata.